Sì, ma non è possibile che ancora dobbiamo aspettare un'altra settimana per avere l'ufficialità è ridicolo, è ridicolo che mi devi dare la possibilità di prepararmi per l'orale non me lo puoi dire a tre settimane dalla data mi dici, ah, ragazzi, cambiamo tutto, facciamo l'orale ma io mi dovrò preparare, dovrò studiare in qualche modo ma che cazzo di modo di fare è?